Dal fronte, 31 luglio 1915. Carissimo papà, ho finalmente ricevute le tue ultime lettere e con esse quella del 3 luglio che ho tanto aspettata. Ora sono perfettamente tranquillo e ve ne sono infinitamente grato. Sono contentissimo della vostra fiducia, ma purtroppo non posso condividerla. Le perdite tra gli ufficiali sono semplicemente allarmanti e non permettono di pensare a un avvenire. Ti assicuro però che non ho bisogno di conforto. Sono giovane e amo la vita, ma so anche disprezzarla quando ne sia il caso. oramai la morte è per noi fatto comune che non ci spaventa e non ci preoccupa. siamo sempre allegri e di essere allegri ci facciamo un sacro santo dovere, visto che il nostro domani è tanto incerto. sono perfettamente pronto a lasciare la vita per il mio paese adorato, lieto se il nostro nome sarà reso più grande dal mio umile contributo, dal sacrificio del mio sangue e dalla mia vita. due cose mi stavano e mi stanno a cuore, la vostra benedizione e la vostra forza d'animo. sperate pure nella buona fortuna ma non fatevi soverchi e illusioni. Sperate ma nello stesso tempo guardatevi intorno vedrete molti padri e molte madri lacrimanti ma fieri della morte del loro caro o dei loro cari. io confido soprattutto in te che lo sei tanto, forte e nell'influenza che puoi avere su mamma, meno disposta per natura a questo sacrificio. purtroppo non potete venire a trovarmi senza correre soverchi pericoli ed esporre me a giorni di dolore per il nuovo distacco. fate quindi favore di rinunciare a questo progetto. mi chiedi della mia salute e dei miei bisogni. la salute è buona perché mi avete data e fatta una pelle più dura e più resistente di quella d'un somaro. in quanto ai bisogni non ne parlo perché sarebbero troppi. scusatemi se certe volte non vi rispondo con la dovuta celerità ma spesso ultimato il nostro compito si è sfiniti e si cade a terra fulminati da un sonno assassino col quale non si viene a patti. un bacio di cuore a te a mamman e appunto adriano quello fu l'ultimo bacio e quelle le ultime parole questa era la corrispondenza in guerra è 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